Siamo qui con Francesco Vannella dopo la sconfitta dei suoi giovanissimi provinciali del 15 per mano della Vissu Biago. Innanzitutto, cosa non ha funzionato? Noi abbiamo giato bene, le decisioni arbitrali hanno influito soprattutto perché loro hanno segnato inizialmente una punizione, poi un rigore che era molto dubbio e ci ha un po' demoralizzato, però poi comunque abbiamo accorciato e poi ci ha demoralizzato anche l'atteggiamento dell'arbitro perché ci ha affischiato delle cose che magari si potevano anche evitare e ci ha un po' distrutto psicologicamente. Senti, ma invece poi nel secondo tempo avete tenuto decisamente meglio il campo, il discorso del mister a fine primo tempo ha aiutato? Sì, sì, ci ha detto di stare tranquilli appunto a discapito di questa cosa appunto delle decisioni arbitrali e noi siamo entrati con la mente libera e quindi abbiamo giato più a pallone senza sentire gli altri e l'arbitro. Perfetto, allora grazie mille e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie, grazie.